Ebbene sì, ho appena attivato una macchina che stampa soldi al posto mio online sfruttando la piattaforma di YouTube attraverso la realizzazione di Cashco Channel Questo video è di altissimo valore e ti consiglio assolutamente di guardarlo fino alla fine e soprattutto all'interno di questo video voglio mostrarti le analitiche di questo Cashco Channel che ho realizzato e voglio anche darti delle strategie che potresti andare ad utilizzare oggi stesso per la realizzazione del tuo Cashco Channel Per chi non mi conoscesse mi chiamo Luca Vitiello, imprenditore digitale che aiuta persone normalissime a guadagnare attraverso la piattaforma di YouTube senza ne metterci la voce e senza ne metterci la faccia Prima di entrare nel vivo del discorso e visualizzare il canale che ho appena monetizzato voglio farti capire che cos'è il business di YouTube Automation nel modo più trasparente possibile Il business di YouTube Automation si sviluppa nell'andare a realizzare canali YouTube realizzati senza ne metterci la voce e senza ne metterci la faccia Semplicemente perché attraverso questo metodo abbiamo la possibilità di creare più canali YouTube e moltiplicare quelli che sono i nostri guadagni nel tempo E i metodi per guadagnare attraverso questo modello di business sono i seguenti Il primo metodo è la monetizzazione, guadagnare per ogni singola visualizzazione che riusciremo ad ottenere all'interno dei nostri contenuti Infatti la piattaforma di YouTube dopo aver totalizzato 1000 iscritti e 4000 ore di visualizzazione Ci permetterà di attivare la monetizzazione e guadagnare dei soldi per ogni singola visualizzazione E i guadagni della monetizzazione dipendono dalla nicchia e dal paese Infatti ci sono paesi che pagano di meno e paesi che pagano molto ma molto di più Un altro metodo invece per guadagnare dei soldi riguarda le affiliazioni Andare a promuovere prodotti all'interno del vostro contenuto lasciando il link in descrizione che non sono vostri E guadagnare una commissione per ogni singola vendita oppure per ogni singola registrazione che si va ad effettuare Quindi possiamo andare a creare un vero e proprio business senza avere nessun prodotto Perché c'è già un'azienda che ce l'ha e ci permetterà di guadagnare una commissione per ogni singola vendita Oppure possiamo andare a realizzare il nostro prodotto o servizio e rivenderlo all'interno di questi canali YouTube Guadagnando dei soldi per ogni vendita L'ultimo metodo invece sono le collaborazioni con i brand Ci sono migliaia di aziende disposte a pagare migliaia di euro per la realizzazione di un contenuto sponsorizzato Tutto ciò dipende da quanti iscritti si ha e da quante visualizzazioni si vanno a fare all'interno dei propri contenuti E abbinando questi tre metodi di guadagno all'interno di un canale YouTube Vi posso assicurare che se si fanno le cose fatte bene si possono riuscire a guadagnare cifre davvero molto ma molto interessanti Potete vedere anche questo canale YouTube dove state guardando questo video In passato era un cash co-channel infatti l'ho realizzato senza ne metterci la mia faccia Ma poi col tempo ho deciso di avviare il mio personal brand e ho deciso di metterci la faccia Ma comunque nonostante tutto senza metterci la faccia riuscivo a guadagnare i miei primi 1000 euro al mese Quindi andando a realizzare più cash co-channel i guadagni possono moltiplicarsi nel tempo Perché abbiamo più fonti di entrata stabili E a differenza di tutti gli altri modelli di business qui siamo solamente noi davanti al PC e non dobbiamo avere a che fare con nessuno Quindi andiamo ad abbattere tutte le rotture di scatole che ci sono all'interno degli altri modelli Ma sono soldi facili? Si possono fare soldi senza fare niente? Assolutamente no C'è bisogno di lavoro come è giusto che sia perché parliamo di un modello di business reale Chi lì fuori vi fa vedere guadagni enormi senza fare nulla vi sta mentendo ragazzi I soldi senza fare niente non esistono e soprattutto il business perfetto non esiste Tutti i modelli di business hanno delle complicazioni Bene adesso entriamo all'interno del mio canale così che io possa mostrarvi i risultati Bene signori miei come possiamo vedere questo è il cash co-channel che ho deciso di realizzare In solamente 28 giorni abbiamo totalizzato ben 230.000 visualizzazioni Abbiamo raggiunto le ore per attivare la monetizzazione e soprattutto i 1000 iscritti Infatti è stato monetizzato ieri e attualmente i guadagni ancora devono essere attivati Perché questi 11 centesimi sono solamente dei guadagni di poche ore di monetizzazione Infatti nella giornata di domani già andremo a vedere quelli che sono i primi risultati Ma tranquilli perché adesso vi farò capire il potenziale e quanto si potrebbe riuscire a guadagnare con un singolo contenuto Precisamente ho creato il primo video il 7 settembre Dopodiché per mancanza di tempo anche perché ho voluto lasciare che youtube andasse a farmare un po' l'account Sono andato a pubblicare i primi contenuti e dal 12 ottobre al 21 novembre sono riuscito ad attivare la monetizzazione E attualmente questo canale youtube fa soldi al posto mio Ovviamente non sono soldi senza fare niente bisogna lavorare come è giusto che sia ragazzi mi raccomando Ma può regalarvi soddisfazioni immense perché ci vivo con youtube già da moltissimi anni Abbiamo avuto picchi fino ad arrivare a 24.000 visualizzazioni in 24 ore E precisamente abbiamo attivato la monetizzazione solamente con 35 video pubblicati Quindi è un risultato strabiliante secondo il mio parere In meno di due mesi abbiamo un canale monetizzato che ci potrà permettere di guadagnare soldi costanti ogni singolo giorno E soprattutto un singolo video quindi non parliamo di short tranquilli ma un video completo di 8 minuti Mi ha permesso di totalizzare ben 89.000 visualizzazioni Portandomi ben 254 iscritti Però attualmente il canale è stato monetizzato ieri quindi non ho ancora la possibilità di vedere i guadagni Queste 87.000 visualizzazioni non sono monetizzate perché ho attivato dopo la monetizzazione all'interno del canale Infatti possiamo vedere che a distanza di 24 ore dopo aver registrato questo video Mi ha dato già 5 euro di monetizzazione solamente attraverso un singolo contenuto Questo video rimarrà online per sempre e potrà permettermi di guadagnare ogni singolo giorno per sempre Quindi andando a realizzare più contenuti all'interno di un canale i guadagni possono andare a moltiplicare nel tempo Perché abbiamo un asset di contenuti che ci generano denaro passivamente Per quanto riguarda invece le entrate che potrei andare a ricevere attraverso questo contenuto di 89.000 visualizzazioni Sono più o meno di 2,50 euro per mille visualizzazioni Questo perché questo video va a prendere un pubblico più broad Mentre ho altri video che ho pubblicato da poco che hanno un CPM di 15 euro E considerando che YouTube paga il 50-60% di questi 15 euro Andrò a guadagnare attorno ai 7 euro per mille visualizzazioni all'interno di quest'altro contenuto Dove va a prendere un altro tipo di argomento con un CPM molto più alto Quindi capite che ha un potenziale praticamente assurdo Perché questo canale YouTube andando a considerare le visualizzazioni che sono riuscite ad ottenere in 28 giorni Abbiamo ben 129.000 visualizzazioni Considerando un RPM di 5 euro Questo canale può portarmi dai 600 fino ad arrivare anche ai 1000 euro al mese di monetizzazione Solamente attraverso un singolo canale YouTube Ovviamente questo se si vanno a pubblicare contenuti periodicamente E tutto c'è solamente alla punta dell'iceberg Perché attraverso questo canale YouTube adesso farò due cose La prima cosa andrò a replicare questi contenuti in un'altra lingua Quindi dove la monetizzazione è molto più alta E soprattutto andrò a realizzare un servizio mio Dove le persone andranno ad acquistare un determinato servizio Che mi permetterà di guadagnare ulteriori soldi Quindi capite che un singolo canale YouTube potrebbe essere realmente un'azienda Tutto ciò dipende anche dalla nicchia che si va a scegliere E soprattutto dal tipo di contenuto che si va a realizzare Adesso invece prima di terminare questo video Voglio darti delle chicche molto interessanti La prima cosa che devi assolutamente fare quando vai a realizzare un canale YouTube E lavorare molto bene sulle copertine Perché saranno la prima cosa che lo spettatore andrà a visualizzare E se andiamo a realizzare delle copertine fatte bene Le nostre visualizzazioni aumenteranno discretamente Altra chicca super interessante è andare a sfruttare anche i contenuti brevi Ossia gli short che ci porteranno traffico all'interno del nostro Cashco Channel E questi short possiamo andare a pubblicare anche all'interno di TikTok E attivare la monetizzazione anche all'interno di quell'altra piattaforma Ultime due cose davvero molto importanti E avere costanza Quindi non pubblicare tre video e abbandonare tutto Perché non farete assolutamente nulla E dare il tempo alla piattaforma di YouTube A meno per fargli capire a quale target deve consigliare il vostro contenuto Detto ciò io spero che questo contenuto vi sia stato realmente utile Se volete ulteriori informazioni sui miei percorsi di formazione Ho realizzato una masterclass completamente gratuita Dove vado ad approfondire questo argomento E dove ti parlo nello specifico di quello che vado a fare personalmente io Quindi troverai il link in descrizione Mi raccomando vattela a guardare Perché quella masterclass è di altissimo valore Se questo video ti è stato utile Lascia un bel like Iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato Fammi sapere tu cosa ne pensi nei commenti Io ti saluto e noi ci vedremo nel prossimo video Ciao Ciao